Si esprime anche un parere positivo all'ipotesi di divaro di un recovery plan pensato appositamente per l'Ucraina proprio sul modello del recovery plan adottato dalla Commissione europea dopo la pandemia da Covid. La proposta citata da Dario Nardella in veste di presidente di EuroCities, l'organizzazione internazionale che raccoglie sindaci di oltre 200 città europee, serpeggia già da tempo nei palazzi di Bruxelles e Strasburgo. Del resto il ruolo strategico dell'Ucraina sullo scacchiere internazionale è molto importante per le istituzioni europee e a testimoniarlo l'ampia solidarietà, oltre agli aiuti militari, che gli stati dell'Unione hanno garantito al paese invaso. Al di là delle prospettive belliche, sempre incerte, uno dei temi di discussione dell'ultima riunione della Commissione cittadinanza, governance, affari istituzionali ed esteri del Comitato europeo delle regioni è stata proprio la ricostruzione di quel paese che dovrà essere rapida ma anche efficiente. Sarà anche una specie di rinascita perché non ha come obiettivo quello di ricostruire ciò che già esisteva, ma rigenerare le città sulla base dei nuovi criteri provenienti anche dall'esperienza europea, dunque sostenibilità, inclusione sociale, attenzione alle nuove generazioni. Insomma, ricostruire secondo il modello delle grandi città europee e avviare al contempo il processo politico per far entrare Kiev nell'Unione. Se il passaggio non si prospetta semplice, con alcuni paesi dissidenti rispetto alla linea accogliente della maggioranza del Parlamento, le città, garantisce Nardella, possono già fare molto, come peraltro certifica il legame che unisce proprio Firenze alla capitale ucraina. Essendo Firenze anche una città di pace, che ha ospitato pochi mesi fa il Forum per la pace nel Mediterraneo, con 60 sindaci da tutta l'area del Mediterraneo, appunto è una vocazione che ci spinge a lavorare con Kiev e anche con le altre città dell'Ucraina per questa ricostruzione e poi per allargare l'Unione Europea a questo paese.